Abbiamo concluso, concludiamo questa sera la nostra campagna elettorale e abbiamo riunito qui presso questo giardino meraviglioso, il bed and breakfast, il torione dell'amico Patrizio e di sua moglie Paola per un brindisi di fine campagna assieme ai ragazzi che mi hanno dato una mano a condurre questo progetto, a prepararlo e a presentarlo alla città, è stata una campagna molto faticosa ma bellissima, abbiamo riscoperto passione per la politica, per la cosa pubblica, amore per il confronto, il coraggio di andare davanti a metterci la faccia, anche persone che non si erano mai occupate della cosa pubblica hanno pian piano preso entusiasmo rispetto a questo progetto, noi vogliamo cambiare il corso della storia di questa città, vogliamo portare una spinta nuova e diversa, vogliamo veramente un grande cambiamento di passo nella vita amministrativa della nostra città, io credo che se la gente domenica come spero che sia ci darà fiducia, noi possiamo davvero fare grandi cose insieme perché abbiamo registrato grande voglia di cambiamento e grande entusiasmo in tutte le serate che abbiamo fatto a Casamaggiore e nelle frazioni.